E' così che non avranno, simili tutto a quelli di ieri, raggrabbate un'immagine, tocca a casa per scriverci. Dimmi non è così, non è così, non è così, non è così. E poi ci ritroviamo, divisi per muovere le armi. Senza più nulla per la scombra, sono più accorti per mostrare i punti dove la vita ristagna. Le cantine di giudici, così sempre appagate. E ci seguiamo, in un cammino colpato, sotto i miei occhi batte. Continuo neanche sostegno, tra questo mondo e una scena, Le nostre ore canoniche, le nostre ore contate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.